Il distretto Puglia Creativa è arrivato al Palazzo Tuputi di Biceglie per la terza incursione delle sue invasioni creative. Un'occasione per i soci del distretto e le imprese culturali e creative per incontrarsi, sviluppare nuove idee, cooperare e immaginare progetti concreti e sostenibili per rinnovare la Puglia Creativa. Francesco Rossi. Cos'è il distretto Puglia Creativa? Il distretto Puglia Creativa è l'unico distretto produttivo riconosciuto da una regione italiana sulla creatività. La creatività è quell'insieme di discipline e attività economiche che mette insieme l'industria culturale, quindi l'editoria, il cinema piuttosto che il videogame. La parte creativa che è il design o le agenzie di comunicazione, tutto quello che ha a che fare con il branding. Le performing arts e quindi tutto lo spettacolo dal vivo e l'arte contemporanea, il patrimonio pubblico, gli archivi e tutti quelli che sono i beni culturali. In questo rappresentiamo un unicum in Italia, nel senso che come vi dicevo è l'unico distretto riconosciuto da una regione su questo ambito produttivo. E in questo noi cerchiamo di costruire le linee guida per lo sviluppo della creatività nei nostri territori. State girando in lungo e largo la Puglia proprio a caccia di idee e di collaborazioni. Giriamo in lungo e largo per la Puglia perché cerchiamo di profilare il territorio rispetto alle loro peculiarità produttive o ai fabbisogni che le singole imprese chiedono. E quindi in questo cerchiamo di mettere la creatività a disposizione anche di altri settori produttivi tradizionali che in questo momento hanno magari esaurito la loro forza propulsiva, che però grazie alla creatività possono rinnovarsi e possono ripartire in una modalità diversa. Ci fa un esempio? Sì, soprattutto quello per esempio dell'agrofood o dei beni culturali. Ad esempio a Foggia le imprese creative chiedono una connessione con tutto quello che è il sistema agroalimentare perché chiaramente la Capitanata e il Granaio d'Italia storicamente ha avuto questo e quindi in questo stiamo cercando di realizzare delle masserie creative o degli hub rurali che possono meglio rivalorizzare il patrimonio rurale e valorizzare i prodotti agroalimentari locali. Per esempio nella provincia di Lecce invece l'asset è più spostato sui beni culturali e del turismo e quindi in quello cercheremo di valorizzare appunto i beni culturali e il turismo in quella che è la provincia di Lecce. Sulla BAT abbiamo sicuramente una forte presenza dei beni culturali. Per esempio rispetto ai musei il 75% degli ingressi in Puglia dei musei sono fatti da Castel del Monte quindi sicuramente questo è un punto di forza. Poi abbiamo bisogno anche di recuperare tutto quello che è il sistema agricolo perché comunque anche questa provincia ha una forte propulsione agricola ma anche quella turistica visto che comunque da sempre è stata leader se vogliamo e avanguardia per quello che è il turismo balneare e comunque l'intrattenimento. Quindi in questo cerchiamo di partire dal basso per cercare le linee guida di sviluppo di questa terra ed è in tutta la regione in un'ottica del 2020. Un'ottica del 2020 che sia la fine della programmazione europea che ci stiamo apprestando a vivere sia per esempio una tappa quadro sarà anche il capitolo Matera, capitale della cultura nel 2019 che sicuramente ha necessità di essere capitalizzata anche da questi territori.